bentornati su denot oggi voglio proporre un video per quanto riguarda la recensione per quanto riguarda battle score gallet il nuovo rilascio delle battle score da parte della game social per e giustina house a giugno 2022 voglio ricordare che è stato un notevole cambio per quanto riguarda molte armate che vedremo a breve e che in ogni modo questo tipo di documento è temporaneo quindi di volta in volta verrà cambiato quindi dovete andare a vedere nelle proprie armate relative anche le facche che sono legate alle armate perché quelle rimangono più a lungo quindi tenete conto di questo e ora andiamo a vedere più in dettaglio proprio quello che è presente in questa battle score e possiamo cominciare con la grande alleanza dell'ordine e la prima che vediamo è per quanto riguarda gli stomacass e tennis che vedono due cambiamenti di cui uno il primo solo per un dettaglio che però è fondamentale allora il testo rimane praticamente identico per tutto quanto compreso l'effetto ma col dettaglio allora si può usare questa abita comando una sola volta per battaglia nella propria hero phase il comando deve essere lanciato solamente da un modello amico di knight a unità totalmente entro 12 pollici dice o da un unità amica con la keyword lord o draconite a unità completamente entro 18 pollici dice e l'unità che riceve il comando deve essere un'unità amica di justicar o angelos e qui viene la differenza che non sia rinforzata quindi il numero base non può essere preso l'aumentare dell'unità altrimenti non può essere utilizzata questa abita unica comando che è a pagina 111 del codex inglese e come sempre l'effetto è che l'unità in questione può sparare in quella fase quindi una sola volta però taglio tutto quanto ma l'unità non non deve essere rinforzata per poter usare questa abita a comando quindi è qualcosa adatto in negoziazione il secondo che è stato cambiato per il stone cast e tennis è draconic on slot delle stone trick cards che trovate a pagina 174 del battuto inglese e questo è stato cambiato tant'è che ora non ha più gittata non ha più da lanciare un dato per essere si attiva o altro l'effetto è completamente diverso praticamente ma fa in modo che l'unità una volta per battaglia nella propria fase di carica può dire di attivare questa capacità questa abilità di draconico slot e se lo fa può ritirare i tiri per la carica in quella fase quindi praticamente è stato cambiato totalmente non è più con un range non è più con nessuna cosa si fa punto e chiuso quindi è completamente diverso da quello che avevamo visto prima pur essendo l'effetto praticamente identico quindi sicuramente interessante ma tenete conto che è stato totalmente modificato come funziona e poi abbiamo le città di sigma con live in city che cambia il tratto di battaglia strike then melt away che permette di utilizzare questo abilità comando alla fine della propria fase di tiro shooting phase se lo si fa si seleziona unità con la keyword live in city che abbia già sparato in quella fase e che sia a più di 9 pollici da unità nemiche e sia totalmente entro 18 pollici da un hero con la keyword live in city quell'unità può effettuare un movimento normale non può correre ma questo deve fare in modo che il movimento non deva finire entro 9 pollici da unità nemiche quindi si deve stare a più di 9 pollici da unità nemiche l'unità non può beneficiare di questa abilità comando più di una volta per fase sinceramente è veramente interessante come abilità perché vuol dire che oggi si può avvicinare sparare e dopo usare questa per ritirarsi quindi per spostarsi fuori da eventuali cariche o altro o anche semplicemente magari si può star fame magari perché si è già ingitata del nemico sparare e poi spostarsi in modo da eliminare la possibilità che nel turno successivo nemico vada a caricare o succedano altre cose quindi sicuramente è un qualcosa che è molto interessante a livello strategico come tratto di battaglia quindi molto interessante e poi abbiamo il seraphon con qualcosa che mi ha fatto decisamente alterare perché è una cosa che non se lo meritavano con quale scida quindi la fazione che principalmente gioco che ha il tratto di battaglia skill screen e la prima parte praticamente identica quindi sesso trae uno dai danni inferti da qualsiasi attacco con successo effettuato contro i bersagli che abbiano alla keyword quale scelto fino al minimo di uno ok ma poi sono state aggiunto le keyword su cui funziona quindi saurus crocsgur e monsters quindi vuol dire che non funzionano sugli scinchi e questo che mi fa alterare perché ok tecnicamente ci sono unità come il bastilodon e altre che hanno gli scinchi che comunque le beneficiano perché hanno la keyword monster ma vuol dire che gli scinchi vengono esclusi dal beneficiare di questa abilità e non capisco perché perché alla fin fine vuol dire che neanche gli eroi possono beneficiarne negli eroi e negli scinchi quindi quelli che non hanno la keyword monster non la possono sfruttare e non lo trovo corretto perché effettivamente è una delle caratteristiche anzi la caratteristica base proprio dei quale scid non è che vadano in giro senza gli scinchi che fanno parte dell'armata e sinceramente non è stato portato alcuna modifica di meno a quella che la controparte alternative che si può scegliere per i seraphon quindi non capisco perché questo cambiamento questo lo trovo un depontenzamento assolutamente non concesso non dovuto ai seraphon perché non sono meritavano in ogni caso questa è la modifica però non lo trovo affatto corretto e poi abbiamo la grande alleanza del caos e qui abbiamo broccaria belacol che vede in legion of the first prince il cambiare il tratto di battaglia first time prince a aggiungere uno ai tiri per colpire per ferire degli attacchi effettuati da belacol mentre entro 18 pollici da almeno una unità amica che abbia le seguenti war scroll blood ratters orso cinch black beaters e demonettes e poi abbiamo gli head on it of the launch e questo è stupido perché abbiamo semplicemente punteggi non ci sono altre sono solo punteggi cambiati perché dico che è stupido perché è stato rilasciato dalla parte della stessa game workshop un pdf che potete trovare nelle fac di age o sigma con i punteggi di tutte le armate per quanto riguarda house quindi tutte le armate aggiornate che ci fa questo qui volete dirmi che questo va a sostituire quelli lì in modo che se deve esserci un cambio e spariscono i punteggi da un successivo battle school allora tornano quelli che sono in quel pdf ma scusate semplicemente si aggiornano i pdf se ne fa uscire un altro con i punteggi aggiornati quindi non capisco questo problema di dover avere i punteggi divisi in due parti quindi si trovano quelli e poi si trova anche questo anche perché non ce ne sono altri sono solo questi quindi che senso ha semplicemente si mettono direttamente i punteggi in quel pdf e dopo casomai si aggiorna perché tanto verrà cambiato anche qualche altro punteggio quindi non capisco perché deve esserci negli edonisos lanish una finestra una voce soltanto che punteggi solo per questa armata che non ha senso vuoi dirmi che sono temporanei mi va anche bene ma tanto dopo li puoi cambiare comunque quindi non riesco a capire e poi abbiamo per quanto riguarda le blades of corn che vede rimuovere in due parti per quanto rimuovere il testo da il tratto di battaglia blood for the blood god che dice che se si sceglie una ricompensa dopo aver risolto l'effetto del blood tight il totale dei punti è resettato a zero e si muove anche da evocare i demoni di corn come tratto di battaglia che si sceglie con unità in questa maniera il numero di punti per quanto riguarda la blood tight e viene resettato da zero quindi praticamente togliendo il reset a zero semplicemente si sottraggono solo e rimangono i punti rimasti quindi è semplicemente quello da tenere doc che non è affatto male comunque e poi abbiamo la grande alleanza con due cambiamenti importanti abbiamo il primo per quanto riguarda i flash it a cursa che vede un cambiamento per quanto riguarda il tratto di battaglia deathless courtier le unità amiche di flash it a cursa hanno un board una salvezza al se o più fine quindi è stato rimosso il raggio di 12 pollici e così via associato ad essere in totta dall'eroe quindi vuol dire che tutte le unità sul campo di battaglia deathless courtier hanno automaticamente un board al se o più è un notevole cambio di come andare a impostare l'armata e le sinergie perché non si è più vincolati ad essere intro tot dall'eroe è fondamentale poi abbiamo per quanto riguarda gli osservo rippers che vedono un'aggiunta alle note per quanto riguarda i necropolis torques e le mortis card nei propri pitchfot profile e questo l'abbiamo trovato anche in quello che è le fac per quanto riguarda i general handbook 2022 2023 season one perché è stato portato anche lì quindi ricordatevi eventualmente anche quello dato che queste due unità quindi necropolis torques e mortis card diventano battle line se in generale ecco la keyword mortisan questo cambia notevolmente i funzionamenti perché da un lato vuol dire che non è più necessario avere il league cavalos come generale perché si può tranquillamente mettere un mortisan ad essere generale perché tanto visto che deve andare in compartimento il cavalos quantomeno si ha il mortisan che può comunque fare quello che deve fare nelle retrovie quindi è meno facilmente uccidibile da parte del nemico ma soprattutto dato che necropolis torques e mortis card hanno quattro o meno ferite e diventano battle line si ha accesso a quelle che sono le nuove opzioni per quanto riguarda la gestione dei distaccamenti per appunto il puntuale del generale nuovo che avevo appena citato quindi vuol dire che hanno accesso a delle funzioni e delle opzioni in più ed è veramente interessante in questo senso quindi questo cambia notevolmente in modo di approcciarsi anche l'armata degli oscar reapers perché si può rendere battle line unità molto facilmente aggiungendone due che altrimenti non sarebbero stato quindi anche gestire meglio i punteggi per avere il numero minimo di battle line disponibili quindi molto utile e poi abbiamo la grande alleanza destruction che vede il maggior numero di cambiamenti abbiamo gli orc over clan che vedono aggiungere la sezione note per quanto riguarda i gutriplats come profilo di battaglia che per ciascuna unità gutriplats incluse nella pepermata si può prendere una unità di oggroth slithers come unità battle line abbiamo green blades che viene cambiata da out of the midst ability che fa in modo che le unità amiche di green blades non sono visibili a modelli nemici che siano a più di 12 pollici di distanza da loro non male e bone split che fa cambiare spirit of work a morca come tratto di battaglia in modo che sia se un tiro non modificato per colpire di un attacco effettuato con un'arma da combattimento da un modello amico di unità di boss pizza è 6 quell'attacco effettuerà due colpi sul bersaglio invece di uno e si tira separatamente per ciascun colpito e poi abbiamo i grooms pet kids che per la luce della luna cattiva come tratto di battaglia si va a rimpiazzare l'effetto del moonclan fungus blue con fraffin zilos se un'unità amica di moonclan riceve il comando rally mentre questa è affetta dalla luce della luna cattiva si può far ritornare un modello ucciso a comunità per ciascun 4 più invece che per ciascun 6 inoltre c'è rimpiazzare l'effetto di troggot renewal con moonlight hide si aggiunge u1 ai tiri salvezza per unità amiche di grooms pet kids troggots mentre queste sono affette dalla luce della luna cattiva e infine bad moon lushrine che aggiunge la seguente abilità effigy of the barn moon quindi i grooms pet kids come unità sono affette dalla luce cattiva della luna cattiva mentre sono totalmente entro 12 pollici da questo terreno quindi da considerare ad ogni modo dai non mod per questo video è tutto vi invito a mettere mi piace a iscrivervi al canale a suonare la campanella ea lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo a questo tipo di video oppure se siete interessati a semplicemente assinarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati ad animo è tutto alla prossima